Ragazzi il video di ieri ha raggiunto 2000 mi piace, se davvero riusciamo a mantenere questo trend, magari anche aumentarlo un po', proviamo a raggiungere anche qua 2000 mi piace perché questo video è davvero tantissima roba. Mi dispiace che il video di ieri non sia uscito, nel senso l'episodio di Minecraftita di ieri non è uscito, infatti è questo, però ho avuto dei problemi nella realizzazione e in tutto il resto col tempo, non ce l'ho fatta e quindi ho deciso di mettere un video sui Pokémon alle due e quindi posticipare Minecraftita al giorno dopo. Il video di oggi ve lo ripeto è qualcosa di favoloso, ho visto che vi piacciono un sacco le intro che ho fatto, avete visto qualche secondo fa, per la precisione 24 secondi fa, visto che vi piacciono, piacciono anche a me tanta roba, il video di ieri ha raggiunto 2000 mi piace, ci proviamo, tentiamo di mantenere questo trend fino al 550esimo episodio per il World Tour, così ci prepariamo proprio a bestia. Tentano di portare più contenuti possibili perché davvero adesso ho parecchio tempo a disposizione per registrare e tutto il resto, quindi io mi impegno a portare più contenuti, voi impegnatevi a lasciare un casino di mi piace, buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraftita perché oggi andiamo a costruire la statua del creeper, non so se avete visto lo scorso episodio, ci eravamo promessi di... avevo fatto un patto con i creeper se gli avessi costruito una statua, loro non mi avrebbero più griffato il mondo dato che in quella farm siamo esplosi 3, 4, 5 mila volte, una roba del genere. Quindi eccoci qua, abbiamo Cracked Stone Brick, Moss, Stone Brick, Stone, altri Stone Brick, altra Stone, prendiamo tutto quello di cui disponiamo, prendiamo ovviamente anche della Cobblestone, immancabile. Ok, i materiali ci sono, vorrei fare un altro paio di Stone Brick così, prendere un'altra cosa, ecco almeno siamo sicuri che basti, ci scendiamo velocemente. E senza feather falling la botta la sento abbastanza e dovremo più che altro pensare ad incantare nuovo l'armatura, ma questa è tutta un'altra storia, adesso andiamo a costruire sta cosa, sta statuona. Ho già fatto il progetto, ho già cercato su internet la realizzazione, come vengono fatte le statue dei creeper e adesso iniziamo a vedere un po'. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa sarà la grandezza della nostra statua, ovviamente da migliorare perché 1, 2, 3, 4, 5 da sta parte, di qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi un paio da sta parte, li mettiamo, diventano 6, qui ne leviamo un paio e siamo tutti felici e contenti. Qui diventano 7, qui diventano 6 e siamo a posto. Bene, iniziamo. L'idea sarà fare una texture totalmente incasinata, distrutta e particolarissima. Andremo avanti da qui, saranno 6 in alto, quindi iniziamo a fare casino, possiamo mettere quanti Stone Brick, cioè vogliamo un casino proprio totale. Anche 2 di fila, fotte sega, ne mettiamo un altro così, sono 2, poi 3, tac, la Stone, ne mettiamo un altro paio lì, così, uno là in fondo, 2 Stone Brick, un pezzo di cobblestone, 3 e così via. Ok, questa è la parte davanti, il muro, sembra, cioè attualmente non si capisce assolutamente un cazzo di quello che possa venire fuori, ma fidatevi di me verrà bene. Allora, ci stacchiamo di 4, questo è 1, poi fai 2, esatto. Cioè, no, che cazzo che blocco ha rotto? Era Stone, adesso io tenterò di riprenderla, si è buggato, abbiamo fotte sega, un attimo, però perfetto, ho ripreso. Allora, l'idea è che io adesso tanto vi illustrerò, poi non è che costruisco con voi, io dico guardate, facciamo questo, ho lasciato un pezzo di redstone. Allora, l'idea è che vi dico, guardate, adesso tiriamo avanti questo di altri 3 blocchi e poi ci rivediamo. Ma tanto per cambiare, ci sono là dei Mr. Creeper, ma ciao Mr. Creeper, io che cazzo lo faccio al contrario, lo stavo facendo, vi giuro, al contrario, non so per quale lo scommotivo. E comunque, quello che volevo dirvi, che è passato tantissimo tempo all'ultimo clip, non mi ricordo quello che stavo dicendo. In tutti i casi, stanno morendo parecchi cose, c'è un Creeper là, ecco, in effetti quello vi dà abbastanza fastidio, disturba, disturba molto la mia costruzione, però vabbè, fotte sega, ci adatteremo. Ok, questo è il coso, ne dobbiamo fare, quanto abbiamo detto, questo, altri 11. Una passeggiata, ma ci metto davvero poco a fare una roba in generale. Mi metto giù adesso, appena ho fatto st'altri 11, altri 10, in verità, perché uno l'ho appena fatto, ci rivediamo, almeno. Andiamo a vedere un po' come, che forma sta prendendo sta costruzione, se ci piace, se fa schifo, se davvero è ridicola, oppure dici, oh cazzo che figata che è venuta fuori. Beh, già ne ho fatti abbastanza, dai. Completato il dodicesimo livello, scendiamo, adesso andiamo a vedere com'è, poi dobbiamo fare la faccia, che comprenderà una parte più avanti e una parte più dietro. Eh, ovviamente, che cazzo dicendo? Se detta così sembra ovvio, però dobbiamo tornare in avanti. Scendiamo, vai, scendiamo, hop, hop, ok, andiamo a vedere un po' come sta avvenendo. Ovviamente, scherzando, non è che è bruttissimo, eh. Le proporzioni sono azzeccate, eh. Non si capisce bene lo stacco, forse, tra la parte questa qui e questa sopra, visto da lontano. Però contate che bisogna fare tutta la parte dietro e adesso, attenzione, perché noi stiamo facendo soltanto il davanti, la parte fronte. A parte retola andremo a giocare, poi successivamente. Adesso mi vado a prendere della terra, perché mi serve per fare l'impalcatura. Mi servirà anche per prendere qualcosa sotto. E, detto questo, questo video purtroppo doveva uscire un giorno fa, eh, per questioni di tempo, ovviamente. Non è uscito oggi, comunque, ovviamente. No, qualche volta può saltare, ma in crattita. No, lo so che vi incazzerete a bestia, ma... E sa va a sanire, insomma, per forza così. Eccoci qua, adesso. Dobbiamo fare una cosa interessante, fare tipo così. E poi andare avanti di otto cosi. Quindi questi li leviamo, mancano i crackhead. Eccoli qua i crackhead. Andiamo di qua e iniziamo a tirare qua, tipo uno così. Poi ci mettiamo un altro stone brick così e così. Ce ne manca uno. Ecco qua, perfetto, ne mettiamo subito un altro. Tentando di non accavallarli troppo, quelli già utilizzati a quelli magari rotti e tutto il resto, per creare una texture un po' più variegata e sicuramente più bellina. Due. Perfetto. Adesso, questo lo ringraziamo, lo possiamo togliere. E dobbiamo andare su di altri otto blocchi. Da qui sono altri otto in su, contando anche questo. Quindi altri sette in linea di massima. E poi dovremo avere la faccia del creeper già completa. Devo andarmi a prendere adesso. Ecco, bene, fortuna mi sono ricordato. Mi devo andare a prendere qualcosa in uno stronzo enorme. Porca miseria, adesso tornare su, rompere tutto. Allora, non so minimamente che blocchi utilizzare. Vi giuro, non ho valido idea. Però, fottesiega, adesso io costruisco, poi mi mangio. Perché mi è arrivato il panino, ho una fame. La roba. No, mentre costruisci poi ti viene fame, no? Vuoi mettere? Mi sono fatto un magazzino qua, tre, quattro volte. Sono salito, un sacco di blocchi. Sono caduto, poi mi sono fatto pure male. E pensi che non ti viene fame? Certo che ti viene fame, cazzo. Da quella pesante e poderosa questi mancavano, ok? Tac, tac, già siamo a due conti. C'è un carino che si scalina da due. E adesso faccio gli altri sei. Ok, abbiamo completato. Ho completato anche il panino, tra virgolette. Però non ci interessa questo, nel massimo, non ve ne frega un cazzo. Della statua del creeper magari vi interessa un po' di più. Perché questa dovrà garantirci un lungo periodo di pace e di serenità da questi mostriciattoli verdi che spesso griffano il nostro mondo. Allora, ho loro ondanzi, insomma. Beh, 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 non ci lamentiamo, non ci lamentiamo per niente. La struttura è figa un sacco. È molto figa. Cioè, si capisce che è un creeper. Oggettivamente si capisce che è un creeper. E questo mi rende abbastanza felice. Si capisce? Un po' di immaginazione, dai. Un po' di immaginazione, mettiamocela tutti. Andiamo a prendere dei blocchi che possano simulare degli occhi. Bene, questa sarà una cosa estremamente complicata. Io ho della lana e siamo d'accordo. Però la lana da sola non basta. Io ho pochissima netherworld, cazzo. Oh, che funziona? Dai. Perché non funziona? Su, collaboriamo. Ecco, ogni tanto si collabora tranquillamente. Di netherworld io ne ho pochissima. Di netherworld block non ne parliamo. Netherbrick non si intonano. Ci sta male. Lana. Io ho 21 pezzi di lana nera. E penso sia la soluzione migliore per ora. Migliore. Cazzo, che cazzo parlo? Redstone. Dai, giù tutto. Sì. Mi piace. Può andare. Andiamo a completare la struttura con questi blocchi. E vediamo se davvero, se davvero può essere figa in qualche modo. Se davvero può funzionare questa statua così. E se la risposta è sì, beh, tanta roba, sono contento. Se la risposta è no, è affanculo. Hop, salì. Perfetto, andiamo a letto. Allora, il risultato è interessante. È davvero interessante. Siete pronti? Oh, bim! E la cosa figa è che avevo 21 pezzi di lana e me ne sono serviti 20. Cioè, il culo è incredibile. Cioè, pensavo mi bastassero invece. Allora on dance. Allora on dance. Questo è quanto. Il quadro generale è davanti. Screenshotino, vediamola. Bim! Ci sta. Ci sta un sacco e secondo me è figo. È figo. Mi piace, mi piace, mi piace. Oh, per te mi è caduta una cuffietta. Eccola qua, abitudine. Abitudine di usare una cuffia sola. A me piace, a me piace un sacco. Poi, non è da escludere che noi adesso lo andiamo a ricoprire tutto. Lo rivestiamo. Facciamo anche ovviamente tutta la parte dietro. Perché adesso è uno scheletro. E poi ci facciamo una casa. Qui ci facciamo un'entrata. Ascensore che ci porta in cima. Perché no, scusate? Perché no? Cioè, questa secondo me è tanta roba. Poi, non lo so. Ditemi voi che ne pensate. Una torre d'avvistamento dalla storia. Beh, come monumento ci sta. Lo dobbiamo completare, ma come monumento ci sta. In tutti i casi, ragazzi, vi piace che per questo video possa essere tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Se vi è piaciuto di iscrivervi al canale, vi è già fatto di condividere il video su Facebook. Mi raccomando di passare in tutti i ringhiedi. Iscrivetevi al Facebook, Instagram e Telegram. Vi vediamo come al solito. Al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.